Agevolare lo sviluppo di progetti di vita per persone con disabilità medio lieve e disturbi dello spettro autistico, per questo tre associazioni veronesi hanno dato vita al progetto Ponte, iniziativa che vuole essere una risposta concreta e per ottenere la quale si è pensato di mobilitare l'intera comunità. Monteverde quotidianamente cerca di rispondere ai bisogni emergenti del territorio, in particolare con il progetto Ponte mette il focus sulle persone che a causa di fragilità specifiche si trovano in una situazione di stallo, di blocco. Nello specifico quindi il progetto Ponte cerca di aiutare e sostenere queste persone e di conseguenza le loro famiglie a transitare da una situazione in cui il soggetto, a seconda della fascia di età, si sente fragile, solo, dipendente, ad una invece diversa percezione di sé in cui il soggetto può sentirsi parte attiva della propria comunità, appartenente ad una rete sociale e con possibilità di reali esperienze di autonomia. A rendere per immagini questa collaborazione sono stati alcuni destinatari di un progetto che hanno posato insieme operatori, educatori, associazioni e imprenditori per un calendario che serve a sollecitare una raccolta di fondi per finanziare interventi educativi e percorsi di sviluppo delle autonomie. Quest'anno il calendario della Cooperativa Monteverde è suddiviso tra tre realtà, ossia Cooperativa Monteverde, ANSA Onlus per l'autismo e Associazione Bambini Autistici Lessigna Onlus si sono messi insieme per creare un unico strumento, quindi un calendario, che servirà come strumento di raccolta fondi per il progetto Ponte. Nello specifico il progetto Ponte ha l'obiettivo di strutturare delle attività suddivise per fasce d'età, quindi per i bambini un progetto ludico ricreativo, per gli adolescenti invece delle attività di vita autonoma nella propria rete sociale, per i giovani adulti invece un progetto di educazione al lavoro, specifico per andare a insegnare oltre che a una mansione, quindi a un lavoro pratico, anche quelle che sono le regole generali dello stare in un ambiente lavorativo, del gestire le relazioni interpersonali all'interno di un mondo lavorativo e quindi di saper gestire quelle che sono le dinamiche lavorative.